Siamo già pronti e caldi per affrontare quest'estate 2012 al Giugra, un posto dove venire a rinfrescarsi qui a Bordopiscina. Noi siamo pronti per partire il 30 di giugno con l'orchestra Mancina, musica italiana accompagnata da cocktail favolosi, da aperitivi, da degustazioni locali e da tanto tanto divertimento. Vi aspetto tutti a Giugra, sabato 30 giugno. Ciao! Giugra, solo eventi di qualità. Vi aspetta Pasca Rosa, provinciale Ostuni Martina Franca, al chilometro 10.